accordo disaccordo lecito illecito conosciuto sconosciuto continuo discontinuo fortunato sfortunato logico illogico onesto disonesto educare diseducare provveduto sproveduto amore disamore attento disattento consigliare sconsigliare giungere disgiungere cortese scortese 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 domani domani vado fuori per cena domani devo guidare molto ho saputo ho saputo adesso la notizia spesso sono via fino a sera domani domani ci guardiamo un film l'ho chiamato l'ho chiamato oggi da casa ieri è venuto il tuo amico inizio inizio domani con il progetto dopo lo diciamo ai colleghi l'ho visto spesso l'ho visto spesso in macchina domani andiamo in vacanza ieri ho pulito tutta la casa l'ho visto oggi in piazza ieri pioveva e tirava vento finisco domani di fare le pulizie dopo te lo porto a scuola gli parlo spesso dei miei amici domani sarà un bel giorno ieri siamo stati al cinema vado a prendere la mia macchina che cosa vuoi da bere? un caffè? lavoro all'ospedale di notte mia sorella vive a parigi con luca siamo usciti dall'uscita di sicurezza la mia moto va a 250 all'ora luigi vende le mele a 5 euro vado una volta all'anno dal medico avete venduto il tavolo di marmo mia moglie va spesso dal barbiere mia sorella vive lontano da me lisa mangia sei volte al giorno i bambini sono partiti da due ore ho preso una bottiglia di vino ho preso una bottiglia di vino cosa metti sul tavolo? ci metto un vaso mangi spesso qui? ci mangio ogni sabato come stai a napoli? ci vivo molto bene cosa ne pensi di tutto questo? non ci vedo niente di male hai sentito la storia di luca? si ma non ci credo devi uscire con claudia? no non ci devo uscire ci sono i biscotti? si sono in cucina c'è già la pioggia? no non ancora quanti studenti ci sono? quasi cinquecento possiamo mangiare tutto? no loro ci vedono dove andate tutti? lisa ci ha chiamato cosa dicono i tuoi amici? ci danno un passaggio? cosa vi hanno fatto? ci hanno fatto un favore perché loro sono qui? ci hanno offerto il loro aiuto Luca è di nuovo a casa? sì e ci ha portato dei gatti come state in Italia? ci divertiamo molto quando vi svegliate? ci svegliamo alle otto quando andate al cinema? ci andiamo domani ce la fate a finire? possiamo riuscirci? ne avete discusso? al museo? sì ma non riusciamo a capirci siete entrati al museo? no non possiamo entrarci sono le otto e venticinque sono le dieci e dieci sono le due meno un quarto sono quasi le sette è l'una meno un quarto sono le sette in punto è mezzanotte meno dieci è l'una e un minuto sono le cinque e trentacinque è mezzogiorno meno venti sono le otto meno cinque è mezzanotte e mezza sono le sei e dodici è l'una e un quarto molta gente va al mare in agosto troppi bambini non leggono mai siamo troppo stanchi per uscire ho mangiato poca pasta a cena la tua macchina è molto veloce quel libro è poco interessante sei stato tante volte in città oggi abbiamo parecchio da fare i tuoi figli studiano sempre tanto loro fanno molte passeggiate quante camicie hai comprato? ho visto quanti fiori hai a casa ha fatto molti sbagli nell'esame al parco ci sono tante persone sono molto stanco per il viaggio questa carne è troppo cotta Claudia ha tanti gatti a casa c'è poca gente in giro la notte voi leggete molti libri di storia non sai quanto sono contento a scuola si sono iscritti in tanti io voglio andare al cinema tu che cosa vuoi fare? noi vogliamo fare la spesa voi volete preparare la cena? Claudio vuole alzarsi presto lei vuole essere a casa alle otto le mamme vogliono uscire lui non vuole uscire stasera io voglio studiare la lezione tu vuoi fare gli esercizi noi vogliamo andare al mare voi volete venire con noi? i cani vogliono stare fuori mia nipote vuole un libro io voglio guidare l'auto noi vogliamo essere puntuali gli studenti vogliono le vacanze tu vuoi sempre mangiare il cameriere vuole la mancia non vogliamo stare dentro casa l'autobus vuole parcheggiare l'autobus vuole parcheggiare quante persone ci sono? perché non vieni con noi? come mai arrivi adesso? dove stai andando? quale gelato preferisci? quando compi gli anni? chi ha rubato i soldi? cosa vuoi fare domani? come ti senti oggi? non so come farlo perché non la smetti? dove trovo un bagno? quanto tempo ci vuole? che giornale leggi? con chi vai al cinema? di cosa parlate? a che ora c'è lezione? quanta acqua bevi? come fai a saperlo? da dove vieni? dove sono le chiavi? qual è il tuo nome? che lingue parli? quanto sei alto? qual è la tua auto? dove lavori? Marco non capisce la lezione neanche io capisco la lezione loro partono domani anche noi partiamo domani lei gioca a calcio da molti anni anche tu giochi a calcio da molti anni i miei cugini non aspettano mai neanche voi aspettate mai io telefono spesso a mia sorella anche luigi telefona spesso a mia sorella tu giochi sempre a tennis anche le mie amiche giocano sempre a tennis lei non va mai a letto presto neanche tu vai mai a letto presto loro non mangiano mai il gelato neanche noi mangiamo mai il gelato so che Mario dorme fino a tardi penso che Mario dorma fino a tardi lui dice che tu finisci alle sei? lui crede che tu finisca alle sei? desideriamo che voi scriviate un'e-mail sappiamo che voi scrivete un'e-mail Sara dubita che tu capisca tutto Sara sa che tu capisci tutto lei immagina che noi studiamo molto lei dice che noi studiamo molto è vero che lui studia molto sembra che lui studi molto Marco dice che io pago il conto Marco spera che io paghi il conto loro dicono che lui comincia a studiare loro vogliono che lui cominci a studiare grazie grazie